Buongiorno agli ascoltatori, eccoci all'appuntamento con stampa e regime, la rassegna stampa di Radio Radicale. Allora, naturalmente questa mattina a dominare sono i risultati elettorali, i risultati e i primi commenti, ma come sempre succede in questi casi, poi i commenti più meditati verranno nella giornata di domani. Allora, naturalmente questa mattina a dominare sono i risultati elettorali, i risultati a dominare sono i risultati elettorali, i risultati elettorali, i risultati elettorali. Grazie a tutti. 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 a tutti.